Il primo derby in Serie A solo giudica il Cuneo che batte 1-0 in Luserna, una sola rete in una partita dove comunque non mancano le occasioni. Il primo brivido è per il Cuneo al sesto quando sul rinvio di Rosso la palla colpisce Barbieri e rotola lentamente verso la porta, fermandosi contro il palo, poi l'azione sfuma. Risponde l'undici di Petruzzelli al dodicesimo con Sodini che smarca Iannella davanti a Serafino ma il suo tiro è centrale ed il portiere para. Al ventesimo corner di Sodini per Franco che colpisce di testa ma non è fortunata, la palla infatti termina sul fondo. Il gol che decide il match arriva al ventiquattresimo, azione prolungata del Cuneo, sul cross dalla destra di Mellano il Bomber al suo 199esimo gol in Serie A depositi il pallone alle spalle del portiere. Iannella potrebbe chiuderla quattro minuti dopo ma non inquadra il bersaglio. Il Luserna non si dà per vinto ed al 42esimo va vicinissimo al pareggio con Pinna che si presenta tu per tu con Ozimo che respinge il tiro, poi Barbieri calcia alto. Al 52esimo ancora Sodini in evidenza con una punizione magistrale che Serafino para. Le ospiti sprecano il pallone del possibile 1-1 sul versante opposto, brivido per il Luserna quando difensore e portiere non si capiscono, il retropassaggio mette fuori causa Serafino ma Sodini non riesce ad indirizzare in porta il pallone che esce sul fondo. La squadra di Zorri tenta il tutto per tutto ma il pareggio non arriva, finale di gara Cuneo batte Luserna 1-0.